Dopo 18 anni consegniamo alla città un piano programmatorio, un piano completo, un piano che mi auguro a partire da ieri, neanche da oggi, ma soprattutto per il futuro, sia trasformato in azione. Chieti approva il nuovo piano per il commercio, il Consiglio Comunale lo ha votato all'unanimità e questa concordanza rappresenta un unicum per la classe dirigente teatina. Durante tutto il lavoro che è stato realizzato c'è stata una condivisione di idee sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, devo dire che ieri la valenza di questo piano commerciale ha fatto sì che con gli emendamenti che abbiamo in qualche modo presentato abbiamo cercato di migliorare tutto il lavoro che era svolto e devo dire che ha avuto l'unanimità dei presenti all'interno del Consiglio Comunale. Devo dire un fatto che non succede pochissime volte ma che ieri ha fatto sì che acquisisse ancora più importanza il lavoro che è stato realizzato. Diverse le novità in programmazione per rilanciare le attività commerciali. Uno di questi fondi ovviamente è il discorso della mobilità, è una cosa assolutamente importante che dopo forse decenni si definiscono in maniera sistematica, quindi vengono messe in sistema le aree mercatali che sono tre, due nella parte alta e una nella parte bassa che sono quelle storiche ma c'erano sempre le prologhe, finalmente siamo riusciti in qualche modo a definirle in maniera precisa. Il tempo ora ci dirà se il piano sarà rispettato, se così fosse potrebbero essere subito evidenti le ripercussioni sul territorio. Il piano commercio non è solo il piano del rilancio del tessuto sociale e economico ma è anche il piano del rilancio urbanistico, del traffico e della viabilità. Se saremo capaci veramente, avremo il coraggio di creare il round, il senso unico, i parcheggi a spiega di pesce, credo che gli effetti saranno immediati, altrimenti il tutto rimarrà a lettera morta.